L'anno scorso siamo andati alle cascine, siamo andati alle cascine dopo il 3 anno. Guarda, io allora posso dire che per la cosa, per le cascine, già questa qui è una bicicletta che è difficile, è una bicicletta di qualità c'è? Sì, perché c'è il seggiorino, c'è anche le cintesi di... 32, ma tu vendi tutto, vendi tutto. No, non è il mio... Dunque si divertono anche gli altri bambetti, eh? Sì, ma non è il mio... Filippo, ma questa bici quanti chilometri fa con un litro? Un litro? Anche 80. Dici, parlaci un attimo di questa bici, parlaci un attimo di questa bici, c'è tre livelli di assistenza. Senti, appena detto uno non viene, cancella il bici. Questa è una bicicletta elettrica, non dico la marcia. Ha pedalato assistito. È una bicicletta elettrica che vedremo a Ruotati dal 30 al 31 maggio. Venite tutti al Parco delle Cascine, ci sarà anche Filippo. Flores Green Line. Sul web dove ti trovi? www.floresgreenline.it O ruotati.com Cos'è Ruotati? Ruotati è la manifestazione l'unica in Italia, l'alter ego del Motor Show di Bologna, contrario al petrolio, scusami, petrolio ma... È più conosciuto in Europa che in Italia. Esatto, quindi basta col petrolio, la soluzione c'è, è usare prima di tutto quando si può andare a piedi, quando non si può la bicicletta, e se la bicicletta bisogna portare pacchi, pesi, bisogna correre, c'è chi non vuole sudare, allora c'è il mezzo elettrico che con il pannello solare fotovoltaico può essere ricaricato, quindi l'emissione è zero. Cioè noi bisogna andare verso l'emissione zero e questo mezzo elettrico è la possibilità è la soluzione. Esatto, è un progetto nato dall'ingegneria Toyota e sviluppato un po' da conoscenza. Questo mi è in piccolo, c'è un sensore di sforzo che a seconda il tipo di sforzo del 2 metri sul pedale, c'è una sostanza che ti assiste, difatti ora definisco più una pedalata e poi questa serla più è straordinaria, l'unica serla più è straordinaria, cioè è praticamente che ti dà la possibilità di usare una postura straordinaria e gli appioli ai portati, c'è un cos'è, questo c'è, è praticamente esposto. di pesce, questo è questo, con queste alette, che non c'è anche un po' di portati e gli sposti è praticamente il pesce del porto, anche se non è finito, quindi non solo non è finito, non è finito, non è finito. Questa è la lettera più migliore, le più evolute, diciamo. No, I will not interrupt these communions until the end of time For shall I see ja, until the end of time And shall I love ja, until the end of time And shall I see ja, until the end of time And shall I see ja, so ja I shall find Oh, that my words were graven With an iron bend On the rock forever And I know that my Creator live it And he shall stand At the edge of time Upon the earth and stars Yes, I know that my Creator live it Yes, I know that my Creator live it Yes, I know that my Creator live it And she shall stand At the edge of time Upon the earth and stars The earth and stars The earth and stars Upon the earth and stars The earth and stars I believe e quindi